Io dico solamente che se Kairos, come cazzarola si chiama, fosse il mio portiere, il portiere della mia squadra, io penso che stasera le farei trovare le valigie vicino alla porta per fargli significate ne devi andare. È impressionante, questo o ha le mani di burro, questo portiere, oppure stasera ha intascato una bella somma alla ricevitoria, perché se no non è possibile, cioè Real Madrid fa dei gol che ha fatto, due li ha regalati lui. Il primo con un rilancio scellerato, completamente scellerato, con Benzema a due metri. Il secondo, con quella, cioè lì la parava chiunque ragazzi, che il tiro di Bale era forte ma quello era da mandare, da deviare fuori a pugni. Lui praticamente con le mani di burro ci è passato attraverso, quindi questo o veramente è una pippa di quelle impressionanti o veramente la partita si è revenduta in entrambi i casi, io credo che Klopp lo ucciderà dopo la partita appena rientreranno a Liverpool. Salve.